MGG, mobilità garantita e gratuita, è un modo di impegnarsi nel sociale e arrivare laddove una pubblica amministrazione non può arrivare. Si tratta di mezzi che, sponsorizzati da privati, vengono messi a disposizione della pubblica amministrazione. Un mezzo nuovo questa mattina a disposizione di Città Sant'Angelo. Come lo utilizzerete, Sindaco, e chi ne avrà la responsabilità? La responsabilità ne avrà la Croce Angolana Onlus che già ha in dotazione un mezzo e già fa trasporto per diversamente abili da tempo gratuitamente per la comunità angolana. Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare veramente di cuore i volontari che prestano questo servizio gratuitamente. Questa è una maniera intelligente per fare del bene alle persone che hanno bisogno e un grande, enorme ringraziamento va fatto a tutti gli imprenditori di Città Sant'Angelo che hanno voluto regalare questo mezzo importantissimo alla nostra comunità. La Croce Angolana da oggi ha a disposizione un Fiat Doblò, apposentamente attrezzato con pedana posteriore per l'ingresso di una carrozzina e quindi questo mezzo potrà trasportare le persone diversamente abili, anziane o non, nel territorio per fare qualsiasi servizio che richiedano. Ovviamente questo mezzo trasporta quattro persone sedute più l'autista. Al momento in cui c'è all'interno la persona disabile trasporta due persone, la persona disabile su carrozzina e l'autista ovviamente che poi porta il mezzo. Sarà un mezzo che sarà soprannominato, spero anche in questo comune come in tutti gli altri 840 comuni d'Italia, taxi sociale gratuito che significa questo? Che questo mezzo potrà andare nelle case delle persone che hanno necessità di avere un trasporto speciale portarli dove devono andare a fare terapie, visite mediche, qualsiasi sia la loro esigenza e riportarli a casa completamente a costo zero.